È davvero sorprendente quello che è riuscito a fare Oliviero Ferri in occasione della Fiera di Borghetto. Sul sagrato della chiesa parrocchiale ha ricavato un ottagono fedele ricostruzione fotografica del Tempio Civico dell'Incoronata di Lodi. Entrando nella struttura si aveva l'impressione reale di immergersi nello straordinario edificio sacro, completamente decorato, esempio dell'arte pittorica lodigiana del Cinquecento. In tanti hanno varcato la soglia per apprezzare il lavoro fatto dal noto fotografo per arricchire a modo suo la Fiera Borghettina. Molti hanno colto l'occasione per farsi fotografare con lo sfondo dell'Incoronata in modo da conservare memoria di questa singolare iniziativa. Non solo, all'esterno Oliviero Ferri ha esposto le immagini scattate in occasione del restauro delle campane della chiesa parrocchiale. La loro ricollocazione è avvenuta alla presenza del Vescovo di Lodi, anche in questo caso sono stati molti visitatori della fiera che si sono soffermati ad ammirare le istantanee memoria storica di un evento che si ripeterà solo fra qualche secolo.